Le persone che non sono in grado di deambulare rischiano di restare senza vaccino anti-Covid. È la denuncia del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli che si rivolge all'ASL di Pescara e fa un appello all'assessore regionale Nicoletta Verini. La tematica riguarda il ritardo con cui l'ASL di Pescara si sta attivando per vaccinare le persone che non deambulano. Siano essi fragili, disabili o ultraottantenni sono stati lasciati soli a casa senza alcuna risposta nell'incertezza di essere richiamati. È vero che alcuni hanno la fortuna di avere il medico di base che ha aderito alla campagna vaccinale e ha aderito alla vaccinazione domiciliare per queste persone. Ma ce ne sono tanti che purtroppo non hanno avuto questa fortuna. Ne sono stati richiamati dalle squadre dell'ASL che a una mia richiesta di accesso agli atti qualche giorno fa ha detto per farlo avremo bisogno di una squadra che in un turno di lavoro, visti i tempi naturalmente di attesa, potrebbe fare al massimo 6 o 8 persone che si trovano a casa. Beh, questa non ci sembra sicuramente una scusa che può legittimare questo enorme ritardo. Perché l'ASL di Pescara nel frattempo ha chiesto altri medici, i medici diciamo in pensione, di aderire alla campagna vaccinale e alcuni sono stati pagati fino a 40.000 euro l'orde per quattro mesi di attività. Mentre per queste persone non si è trovata gente disponibile. C'è un ulteriore passaggio. Laddove ci sono dei medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale, a loro per convenzione è vietato di poter vaccinare pazienti di altri medici che invece non hanno aderito. Ecco, su questo noi chiediamo naturalmente una modifica della convenzione alla ASL per rendere possibile questo. Come chiediamo alla ASL di Pescara, alla Regione Abruzzo, a Marsilio e a Laverì anche di fare in modo che il portale di poste permetta alle persone che si stanno nel frattempo iscrivendo di scegliere anche il medico di base perché in questo momento è permesso soltanto di scegliere l'hub vaccinale di riferimento.